Salve a tutti, oggi continuiamo a parlare dei complementi indiretti e in particolar modo del complemento di termine. Il complemento di termine indica la persona, l'animale o la cosa a cui è rivolta e termina l'azione espressa dal verbo. In alcuni casi il complemento di termine è un complemento necessario affinché la frase sia di senso compiuto. Osserviamo. Marco dà un quaderno. Leggendo questa frase o ascoltandola vi apparirà chiaro che manca qualcosa nel significato completo della frase. Noi la potremmo completare in questo modo. Marco dà un quaderno a licia. In questo modo l'azione di dare si completa su questo sintagma a licia che costituisce il complemento di termine. Andiamo quindi a vedere quali sono le caratteristiche del complemento di termine. Questo complemento risponde alla domanda a chi? A che cosa? È introdotto dalla preposizione a, che può essere semplice oppure articolata. Ancora, può essere costituito da un prenome personale. Mi quando significa me, ti che significa te, ci a noi e via discorrendo. Osserviamo insieme. La maestra ci spiega la lezione. Facciamo l'analisi. Si trova sempre prima il predicato. In questo caso è un predicato verbale. Spiega. Chi fa l'azione di spiegare? La maestra. La maestra quindi è soggetto, spiega, predicato verbale, che cosa? La lezione. Ci resta questa parolina, ci, che appunto significa a noi. Quindi la maestra spiega la lezione a chi? A noi. Ci, in questo caso, è complemento di termine. il pronome. Il pronome può essere anche legato nella scrittura al verbo, come in questo caso, prestami la penna. Facciamo anche adesso a questa frase l'analisi e viene predicato, presta, dal verbo prestare, che cosa? La penna. Quindi viene tu, soggetto sottointeso, presta, predicato verbale, che cosa? La penna. Complemento oggetto. Mi significa a me. A chi? A me. Complemento di termine. Allora ragazzi, però dobbiamo stare molto attendi quando usiamo i pronomi, perché i pronomi possono avere anche la funzione di complemento oggetto. Guardiamo le due frasi per capire meglio. La maestra mi ha consegnato un premio. Si fa l'analisi logica. Ha consegnato è un verbo, quindi predicato verbale. Il soggetto, la maestra. La maestra ha consegnato che cosa? Un premio, complemento, oggetto. A chi? A me. Questo mi significa a me ed è un complemento di termine. Passiamo alla seconda frase. La maestra mi ha premiato. Sempre si trova il predicato. Ha premiato. Chi fa l'azione? La maestra, quindi la maestra soggetto. Ha premiato, predicato verbale. Ha premiato chi? I. Ha premiato me. Quindi mi significa me ed è un complemento oggetto. Quindi molta attenzione quando facciamo l'analisi dei pronomi. Bene, adesso lavorate da soli. Studiate prima queste semplici regole e poi eseguite l'analisi logica. Ci sentiamo più tardi per la correzione. Buon lavoro! Grazie. Grazie.